La facoltà di giurisprudenza ha una tradizione antica che risale alle origini dell'Ateneo e in particolare dopo il 1870 si è affermata come uno dei principali riferimenti accademici di diritto nell'Italia Unita. Nella facoltà hanno insegnato grandi maestri della scienza giuridica italiana ed europea con una tradizione che si è rinnovata nel tempo grazie a criteri di selezione della docenza esigenti e rigorosi. Alla Sapienza si sono formati giuristi che hanno raggiunto traguardi prestigiosi nelle professioni legali, nelle supreme magistrature, nelle istituzioni nazionali, europee ed internazionali, nel mondo delle imprese e degli affari. La facoltà ha una rete estesa di attività internazionali attraverso accordi per la doppia laurea con prestigiosi università europee, statunitensi e cinesi, accordi di cooperazione scientifica e scambio Erasmus per la mobilità degli studenti durante il corso di studi nelle più prestigiose università europee. La facoltà ha istituito un servizio di tutoring individualizzato che accompagna lo studente dall'immatricolazione alla laurea e iniziative di placement miranti a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro. Dispone di una delle biblioteche giuridiche più importanti in Europa, di aule e postazioni informatiche con l'accesso alle principali banche dati in campo giuridico e di una biblioteca aperta 24 ore al giorno. L'offerta didattica comprende la possibilità di seguire corsi di lingua finalizzati alla comprensione della terminologia giuridica inglese, francese, tedesca e spagnola. Propone un'offerta didattica articolata e ricca, in particolare nel corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale. La facoltà offre un ventaglio articolato di opportunità di perfezionamento post lauream attraverso la scuola per le professioni legali, scuole di alta formazione per la preparazione ai concorsi e master di specializzazione in svariati campi, dal diritto dell'ambiente alla scienza dell'amministrazione al diritto privato europeo. Organizza dottorati di ricerca che coprono tutte le grandi aree della scienza giuridica e costituiscono, per il livello dei docenti e la ricchezza delle attività didattiche e seminariali, il vivaio delle eccellenze della facoltà ed un polo di attrazione per giovani studiosi. Grazie. 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 Grazie.